Indice puntato su Michel Fortuna e Mario Castagnacci nell'ultima udienza del processo Emanuele Morganti. Tre testimoni sono saliti sul banco. Il primo, amico della sorella di Fortuna, avrebbe raccontato che la sera della tragedia, il 24 marzo del 2017, rientrando a casa avrebbe notato l'imputato con una mano dolorante e completamente rossa per aver colpito Emanuele e fatto cadere a terra. Queste le sue parole. Il secondo test, che quella sera si trovava presso il locale Miro di Alatri, avrebbe assistito alla scena finale dell'aggressione. A detta del testimone a sferrare il colpo mortale, quello che avrebbe fatto sbattere la testa di Emanuele sul montante di una vettura, sarebbe stato proprio Mario Castagnacci, il 27enne di Alatri, che era stato uno dei primi a finire in carcere. Il ragazzo ha dichiarato di aver visto il 20enne di Tecchiena barcollare e cadere esanime sull'asfalto. Scioccante anche la dichiarazione di minacce da parte di Franco Castagnacci, padre di Mario, affinché non parlasse con nessuno dell'accaduto. I difensori hanno contestato più volte le dichiarazioni, inattendibili e contraddittorie. Bisognerà attendere la prossima udienza in programma il 17 aprile per nuovi sviluppi.